Il primo tempo, i primi 20 minuti, abbiamo avuto 4 occasioni, 2 fuorigioco, non so se ci fossero o no. Poi siamo riusciti a non mollare e a prenderci questi 3 punti fondamentali per l'inizio del campionato, proprio a 5 minuti dallo scadere. Un buon ingresso di match, mi aspetto molto e spero di fare un grande anno, molto migliore rispetto all'anno scorso, speriamo con zero infortuni e con tante partite importanti.